Il tuo consulente Agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizie. Il tempo previsto fino all'inizio della terza decada di marzo. Bene, predomineranno le correnti atlantiche, in seno alle quali si inseriranno anche nuclei di aria molto fredda che daranno luogo a una parentesi di stampo invernale. Prevediamo appunto tre distinte fasi. Nella prima fase, tra l'11 e il 15 marzo, ci sarà questa parentesi di stampo invernale perché arriveranno due nuclei di aria polare direttamente dalla Groenlandia trasportate dalle correnti nord-atlantiche. Il primo nucleo l'11 e il 12 di marzo. Il secondo nucleo interesserà l'Italia tra il 13 e il 15 di marzo. Eventi quindi ci attendiamo di stampo invernale, come dicevo, perché oltre piogge anche sotto forma di rovesce su Emilia, Romagna, centro-sud, ci saranno nevicate sulle Alpi, però solo di confine, non sul versante Badano, ma nevicate fino a quote molto basse sull'Appennino centro-meridionale, fino ai rilievi della Calabria, del nord-est della Sicilia. Bene, per quanto riguarda le temperature, ovviamente queste saranno in calo tra l'11 e il 12 soprattutto, tant'è che caleranno tra 8 e 10 gradi da prima al centro-nord e poi al sud, ma ci saranno cali anche di 12-15 gradi, laddove attualmente le temperature massime sono su valori intorno a 23-25 gradi. Però non sono previste gelate, però ci saranno forti venti tra martedì e mercoledì, forti venti di Bora sull'Adriatico, di Maestrale sui mari di Ponente, forti venti di Fenne lunedì e giovedì sulle regioni di nord-ovest. Seconda fase, tra il 15 e il 19 di marzo, predominano ancora le correnti atlantiche, però questa volta arrivano dal Medio Atlantico, quindi sono piommiti, porteranno una perturbazione sull'Italia, la quale darà luogo a debole piogge, sulla regione tirrenica e sulle isole maggiore. Temperature gradevoli in questa terza fase, non saranno né troppo, né calde, daranno sensazioni di calde, né di freddo, ma temperature, diciamo, nelle nord. Terza fase, tra il 20 e il 21, all'inizio della terza decada, diciamo, è probabile che arrivi un altro nucleo di aria fredda, ma di questo attendiamo conferme, perché stiamo facendo una previsione oltre 10 giorni. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci, dal pulsante sottostante puoi attivare le previsioni di casa tua.